Scritte poco gradite o graffiti indesiderati sono i segni lasciati su alcune pareti della città e che spesso sono frutto dell'azione di vandali. L'associazione Regresso Arti, da sempre in prima linea per rimuoverle, lancia una proposta al comune di Fano, cancellare quelle comparse sui muri del centro commerciale San Lazzaro in cambio di una sede. Per questo chiede di approvare il suo progetto aderendo al baratto amministrativo, cioè un regolamento comunale che prevede la collaborazione con i cittadini per la cura dei beni comuni urbani. E visto che nel mese di ottobre l'edificio dell'ex scuola di volo è stato ceduto dal demagno al comune, l'associazione chiede proprio quel locale occupato abusivamente dai ragazzi del Grizzly. Sembra che finalmente si sono decisi a creare uno strumento per dare forma a quello che noi abbiamo sempre cercato di fare con i comuni, cioè fare dei lavori in cambio di servizi. Nel nostro caso siamo un'associazione, quindi non siamo residenti a Fano, per cui a noi non è che interessa tanto fare le cose in cambio di una detassazione. Chiediamo se proprio ci vogliono dare qualcosa in cambio, una sede, uno spazio per poter fare i nostri laboratori e le nostre attività. La vostra è un'associazione senza scopo di lucro? Sì, ci offriamo per la pulizia gratuita di queste situazioni, anche perché un centro di periferia come questo, un po' degradato e lasciato a se stesso, rischia di catalizzare poi una serie di piccole illegalità intorno alla scritta sul muro, al vetro rotto, all'abbandono. Quindi ci vorrà sicuramente tantissimo tempo per riuscire a ripulire il tutto? Ci vuole del tempo, delle capacità, delle attrezzature che offriamo volentieri in cambio di un po' di visibilità, non solo per noi o i nostri soci, ma per quello che può essere un'offerta artistica e di laboratori che può interessare anche i giovani della zona o anche i turisti. Grazie. 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 Grazie.